Alla fine della scorsa settimana sono state composte le otto commissioni permanenti del Consiglio regionale. Nessuna rappresentanza algherese in quelle che si occupano di autonomie e riforme, politiche comunitarie e diritti civili, sanità e assistenza sociale, cultura, sport e spettacolo. Mario Bruno è tra i componenti della commissione che si occupa di programmazione e bilancio. Pietrino Fois nella commissione industria, artigianato e lavoro, mentre Carlo Secchi è tra i componenti della commissione che si occupa di urbanistica, trasporti e lavori pubblici. Proprio in questa commissione è il segretario Luigi Lotto, sassarese, malgherese d'adozione, che figura anche tra i componenti della commissione Agricoltura ed Ambiente.